La manda in brocchia Non è vero, ti cacciavo dietro Mi giuro che siete emozionati Stasera ci panno Grande! Grande che hai, ma ci riconosciamo! Si è partito da parecchio! Ma vedete che ha fatto i nardi, ha fatto i nardi! Ciao! E' più 3 giornate squalificato! Evviva! E' giornalista! Quanti anni c'ha? 77! Ma dai, ma non è possibile! Ti voglio bene! No, no, non ti fa giocare! Ti voglio bene! Ti voglio bene! Grazie a tutti. L'obiettivo di Lido era che ci voleva far capire alla squadra che non conviene mai portare la palla perché la palla è sempre più veloce del giocatore e arriva sempre prima del giocatore. Allora noi dimostriamo qualche difficoltà a recepire questo messaggio e un giorno si inventò una sfida di una corsa palla al piede fino a metà campo con Pietro Virgo. Allora gli fa Pietro e fai sfida con me che arriva prima al centrocampo col pallone e Pietro mi dice ma dai mister non è possibile perché noi ascoltano non c'hai coraggio, non c'hai coraggio. Vabbè accetta la sfida inizia questa corsa da fianco della porta i primi due tre passi del barone si ferma palla sul piede e Pietro grossa velocità punto con questo pallone che controllava poi il barone calcia calcia la palla e Pietro si vede sfilare il pallone che arriva prima a metà campo. E quello è stato un grande esempio perché ha preso il giocatore più veloce ma ha fatto capire che la palla è sempre più veloce del giocatore. Aveva ragione Lidol, ma facciamo un applauso. La palla è sempre più veloce del giocatore. Va bene per i fotografi, va bene Luciano, va bene Fabio? Sappiamo come sei, sappiamo che questa sera sera. Mi piace il vino, mi piace il vino. Questo è il senso d'appartenenza. Questa è Roma, questa è la Roma. Noi semplicemente siamo diversi da tutti gli altri. Questo siamo noi. Noi semplicemente siamo diversi da tutti. Vai ragazzi! Vabbè! Facciamo così, la foto qui la facciamo così senza metterci la maglia. La maglia c'è la mia donna. è un piacere no 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 è tutto benissimo quanti siamo? ancora poco poco? perfetto ora chi era il direttore sportivo? è cambiato vedete il settino luci 26 bel rispetto ai geni vi racconto buongiorno a tutti vi racconto che cosa facciamo buongiorno a tutti dentro in campo forse andiamo aspetta aspetta eccoci eccoci dai eccoci lo scocci rosso lo scocci rosso la manda in brocchia eccoci eccoci Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.